Nata a Sverdlovsk, oggi Ekaterinburg, nella Russia sovietica, da padre ingegnere nucleare, impiegato presso un sito militare sovietico. È cresciuta a Sverdlovsk-45, una città segreta, vicino a Sverdlovsk, negli Urali, dove fu sindaco per molti anni Boris Helz. Si laurea in Ingegneria Metallurgica all'Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca. Nonostante la poca stima per la propria bellezza nel 1992 partecipa e vince il concorso del HUC. Of the Year svolto sia Mosca. Inizia a fare la modella e si trasferisce in Italia. Natasha è alta 1,87 metri e pesa 72 kg circa. Lavora come modella in campo pubblicitario. Finché Beppe Recchia non la nota in un ristorante la propone per il programma di Canale 5 La Grande Sfida. Lavora in televisione soprattutto in programmi di genere comico e fiction. Per debutare successivamente come attrice in film per il Grande Schermo. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano. Per tutta la vita, Rai 1, 1997. Con Fabrizio Frizzi. Target, Canale 5, 1998-1999. Festival Bar, edizione 2001. Condotto insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Taratata, quattro edizioni condotte insieme a Vincenzo Mollica. Dal 2005 lavora per Sky Italia. Dove conduce alcuni programmi su Sky Vivo. E successivamente su Sky 1 e Cielo. Tra le miniserie TV spicca nebbie e delitti. Rai 2, 2005-2007-2009. In cui interpreta la parte di Angela Cornelio. Eterna fidanzata del commissario Soneri. Luca Barbareschi. Personaggio ispirato ai romanzi polizieschi di Valerio Varesi. Nel 2009 interpreta il ruolo di una badante russa. Akina, nella sitcom di Rai 2-7-2 ed entra nel cast della serie TV di Canale 5 distretto di Polizia 9. È sposata con l'ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. Con cui nel 2000 ha avuto una figlia. Sasha, gestisce un blog su internet. In lingua italiana.